un qualcosa di diverso. Quando non riesci ad essere pungente in zona offensiva, quando non riesci ad essere pericoloso può montare una sorta di sfiducia che poi rischi anche di sbilanciarti per voler andare di là e di prestare il fianco alla squadra avversaria che è un po' a partire verso quello che è successo a BAS, perché poi dicevo che bisogna scrollarsi di rosso le zavorre della partita precedente, una sorta di motivazione c'è stata, che noi ci siamo privati del 70-80% dell'intera potenza realizzativa, l'abbiamo da fuori, mi riferisco a Prigenti, a Di Francesco, cioè, innanzitutto il non voler rinunciare a Gambaretti, perché Gambaretti è un'importante per questa squadra non è un terzino destro, non ha le caratteristiche del terzino destro, quindi credo che rinunciare a Gambaretti per le prestazioni che lui ha fatto in precedenza sia un delitto, quindi deve cercare di far giocare anche a quelli che meritano. Il recupero di BAS può spingere anche in quella direzione, perché poi le caratteristiche si sposano con quel tipo di sistema. Non avendo ali, non ho bisogno di ali, quindi qualcosa devo cambiare, cioè va da sé, stiamo cercando di mantenere i nostri concetti di lavoro con una disposizione diversa, abbiamo lavorato una settimana così e poi in futuro lo vedremo. Ho tolto Cialid, ho tolto il campagna in realtà, perché? Perché non riusciamo a costruire e direvamo anche più in grado. Ho rischiato un'altra, mettendo un attaccante di davanti e dando più pesa al centro. La motivazione è stata quella di dire, davvero, necessariamente. Continuando la cosa che vuoi dire, stiamo lì, stiamo lottando e si lotta. Deve venire fuori anche lo spessore caratteriale della squadra, altrimenti chiede cosa facciamo. C'è quello che deve essere preparato mentalmente, psicologicamente, fisicamente, a continuare le partite anche difficili. Se poi vogliamo avere ambizioni future di un certo tipo, e lì c'è bisogno di andare a cercare, a scalare il fondo del barile, non solo dal punto di vista tecnico, ma per tutti quelli che sono le visibiche, un finale di campionato di questo tipo, non necessita. Noi dobbiamo pensare di fare una partita senza, ripeto, senza sovraccarichi. Né ambientali, né nessun tipo. A partita, a chi gioca, nel 95, ci sono stati riusciti da testare. A partita, a chi gioca, nel 95, ci sono stati riusciti da testare. A partita, a chi gioca, nel 95, ci sono stati riusciti da testare.